Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Sono Camilla e sono il primo anno di magistrale in matematica. Venendo da Milano spesso mi viene chiesto per quale motivo io abbia scelto di studiare a Como e non in un'università più vicina a casa. La mia decisione l'ho presa in quarta liceo dopo aver partecipato ad uno stage che mi ha permesso di conoscere un ambiente di studi raccolto e informale. Infatti all'insubria hai la possibilità di creare rapporti diretti con docenti basati sul sostegno e sul confronto. Inoltre le piccole dimensioni del nostro ateneo favoriscono la creazione di gruppi di amicizie e di studi che rendono l'esperienza universitaria molto più piacevole. L'ultimo aspetto dell'insubria che mi ha convinto è stato quello economico. Infatti l'università offre per gli studenti meritevoli diverse agevolazioni sia sotto forma di esenzioni dalle tasse che di borsi di studio. Spero con questo video di avervi aiutato nella vostra scelta e di incontrarvi presto nei corridoi dell'insubria. Grazie.